Buonasera gentili ascoltatori dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano Semifinale d'andata della Champions League Inter-Barcellona, Giuseppe Murigno contro Guardiola Ibrahimovic contro Eto'o, Maicon contro Dani Alves Insomma, il meglio che in questo momento il calcio europeo, il calcio mondiale Possa offrire l'Inter campione d'Italia Schiera, Giulio Cesar tra i pali Zanetti, Samuel, Lucia e Maicon in difesa, presidio della mediana Tiago Motta e Cambiasso, tre quarti con Schneider, Pandev e Eto'o Milito, unico attaccante di volo 4-2-3-1 per Giuseppe Murigno 4-3-3 per Giuseppe Guardiola Commessi Ibrahimovic e Pedro Nutriche, si ne manchi Buschezza davanti al pacchetto retrato Xavi e Keita interni, la difesa da destra a sinistra Con Dani Alves, Piquet, Pujol e Maxwell Tutti davanti a Vitor Valdez La notte dolcissima a Milano Il terreno è un manto da biliardo La direzione di gara a Finale Destorretto! Alla mezz'ora, cambia il parziale Allo stadio Piazza di Milano Il gol di Wesley Schneider Una sfera irraggiungibile Il ruggito di Sanzino La prova di Vitale Cambiasso Ci riesce, se ne va Maxwell a sinistra L'area di rigore Sul fondo, Maxwell arretrato Attenzione, Pedro La parata La parata di Giulio Cesar Corigno è arrabbiatissimo con Maicon Gli sta dicendo di tutti i colori Insomma, non è poi così lontanissima Visto gli equilibri in campo L'Inter davvero può fare l'impresa Ci mette il pallone fuori Rimessa laterale già effettuata Milito! Che opportunità per l'Inter Che opportunità per Diego Milito Aperto troppo il piatto sinistro Finalmente Barcellona è in possesso di palla Far proseguire la manovra Dei campioni d'Europa Buschetti La posizione di mezzo-destra Sotto di lui Schneider Riscatta l'errore in avvio Balotelli! Il tiro Una cosa indicibile E fa pace con il pubblico Insomma Ma no Lo stanno applaudendo Adesso una parte sì Una parte lo sta mandando a quel paese Perché nel filo? Spieghiamolo Perché da lì Probabilmente avrebbe potuto Più opportunamente A risposto per altro Balotelli La Cuba lo ha fischiato La tribuna lo ha applaudito E tu va a dire Non fischiato Parte il tiro La deviazione Mamma mia Che momento terribile Intanto attacca il Barcellona Mace il traversone 48 minuti e 40 secondi 20 secondi al termine di un match Lo abbiamo visto più volte Nel corso di questa stagione Samuel in posizione Difensore centrale La serve Milito Chiamato adesso a difendere Un difficile pallone Lo fa bene Per cambiarlo Al limite E tocca Carica il destro La palla sul sinistro Parte il tiro Modità Milito 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 In area di rigore Dali Alves Chiude la diagonale L'Inter Ha battuto il Barcellona